non mi sono nemmeno truccata per fuori prima era meglio che mi truccavo? no ok allora basta smettere siamo cominciati vuoi fare il show a tutti? no chiara dai ti prendo non mi è troppo bella mi è tutto ciao a tutti allora sono qui con Francesco ciao mio figlio e abbiamo comprato la Japan candy box cioè lui ha comprato la Japan candy box e ora la apriamo e la assaggiiamo vai ti otorgue uno scotch non c'è uno scotch non c'è uno scotch non c'è uno scotch qui si vedi che c'è uno scotch non c'è uno scotch non c'è uno scotch che c'è uno scotch è un po' è possibile ma c'è due ma c'è due Aspetta, facciamo un'immagine di copertino. Non potevo farlo. Sto sudando con questa luce. Dai, con cosa cominciamo? Quello rosso. Leggi se c'è scritto cos'è. Stick potato. Fallo vedere. Così? Sì, ma se non vediamo cosa stiamo facendo... Eh, vabbè, dai. È un'immaginazione. Ok. Basta. Sono tipo delle patatine? Sì, patatine. Ma non c'è scritto se hanno un gusto strano? Sto prano di patata. Stick potato. Semplice. Ah, guarda, ci sono le istruzioni per aprire. Tieni. Dall'asio si apre? Sì. Aspetta, faccio che sono... Ah, vabbè, effettivamente. Qua sono minuscole. Pazza. Sanno proprio di patatine. Sono minuscole. Sì. Come... Oddio, come si chiamavano? Cioè, ci sono anche in Italia queste patatine. Buone. Mmm. Sono di ketchup. Sì, un po' sì. Molto esabolite. Buone. Per quale sono minuscole? Anch'io. Sì. Vabbè, dai. Poi lo mangi dopo. Questi sono rare. Sì. Fai vedere? Noire. Black Coco. Aspetta. Io lo faccio così a vedere. Non lo faccio vedere perché io... Non lo faccio vedere perché è abbastanza. Sì. Mini. È bello. 100 calorie. Tutto il pacchetto. 20 grammi. È più probabile. Vai, apri. Ma che è la scatola dei mini per i mini in patatine per i mini in patatine? È vero. Sono tutti mucchi. Aspetta, aspetta, ma fai così. Guarda. Eh, piccolini. No, dai. Dovevi guardare la luce. Stavo guardando la luce. Sì. Quei carino. Mini, mini, mini. È mini. Questo va tutto intero. Buon. Mmm. Mmm. Sì. Sì. Sa di Oreo? Sì. Però è un po' più forte. Sì, perché adesso è cioccolato nero. Black. Cioccolato... Boh, non lo so. Black. È black. Pesa, pesa. Pesa, pesa. Questo pesa due volte. Pesa, pesa. Pesa, pesa. Pesa, pesa. Pesa, pesa. Sì, sono cioccolatini, credo. Apri un po', aspetta. Così, eh. Oh, madonna. C'è qualcosa che non quadra. Eh. Cos'è questa cosa? Cos'è questa cosa? È un radiodo. Oh, no. C'è qualcosa che non quadra. Ma... Secondo me si sono sciolti. Ma questo è il raviolo di cioccolato, però. Ma vedi come dovevano essere? Si sono sciolti, si sono tutti uniti. Fantastico! Fammi mordere di qui. Mi sta sfogliando in mano. Cioccolato? Sì. Sì. Al raviolo. Niente di che, sinceramente. Allora, so più cosa prendere. Sì, così. Barbie chocolate. Tutti in angolo. Fanno vedere. Se non devo dire tutte le volte. Marble chocolate. Che Barbie. Ho lento Barbie! Ah, sono tipo... Ah, sono... Gli Smarties. Sì, Smarties. Sì, Smarties. Sì, eh. Sì, Smarties. Sì, eh. Sì. Che sono uguali. Vabbè, gli Smarties sono sempre miei. Vegetaberu. Sarà vegetariano? Sì. Sì. Sono... Ah, sono patatine al pomodoro e peperoni. Non so se mi piaceremo queste. Sì. Aiuto. Sì. Eh, era proprio questo. Che assururè questo? Eh... Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Mmm, buone. Buone! E c'è anche a me. Buone. Oddio, sono sensi. Sì. Allora. Vai, avanti. Qui c'è Hello Kitty. Hello Kitty. Cos'è questo? No, avvicinare che può fuori fuoco. C'è scritto in italiano qualcosa in inglese? Hello Kitty. Hello Kitty. Perfetto. Eh... Io... Ah... Adesso è un leccarecca comunque. C'è... Eh... Una forma fantastica. Dagli una leccatina. Salata di fragola. Salata di fragola. Non darò una leccata pure tu. Sì. Sì, vabbè, non lecca la fragola. Ma... Comunque. Niente di speciale finora. In questa candy box. Allora, voglio questo. Sì. Show. Oh mio Dio mi viene sempre avvicinato. Allora, a me sembrano pasticche. E c'è pure l'arcobaleno. Ci sono questi qui tutti. C'è la polverina. Tieni. Buoni. A me mi fanno già senso. Che schifo! Buoni! Mi piacciono! Che schifo! Sono farinose. Si sciolgono, diventano farinose. Come? E' il tiro mi viene. Ti piacciono? Mm-hm. Oddio, ma cos'è questo? Vabbè. Io questo, mi piace il tubo. Aspetta che c'è. È un carino. Che buzza! Buzzanza! Io questo non lo assaggio. No, Pepper! Ti premo! Fantastici! Di che sa? Gallette di riso. Di gallette di riso? Wow! Ma puzza! Quindi io lo posso assaggiare. Non c'è niente. Si, dai. E' buono. Puoi? Allora, io questo lo conosco già. Quindi faccio questo. Ah, si? Anzi no, facciamo una cosa che lo conoscono. Come è buono. Esattivamente. Vuoi tirarlo? Ah, ok. C'è tutto pulino. Fin qui ci siamo. Questi qui sono buoni. C'è il cioccolato. Aspetta, guarda, è qui l'apertura. Io l'apro dal su. Perché l'hai strappato male? Ah, vabbè, ma tanto devi aprire il porchetto dentro. Oh mio Dio che profumo. Mamma mia quanti erano buoni questi. Ma non li hai mai assaggiati? Come fai sapere che sono buoni? Ho assaggiato il cuore. Ah, sì? Non ce l'avevo. Buono. Buono. Sono dei biscottini con il ripiano di cioccolato. E con la principessa lì. Qui c'è Pippo. Qui c'è Pippo. Qui c'è Pippo. Ah. E lui qua. Non mi ricordo come si mette. Buoni. 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 Ma anche se mi mangio tutto. Mi mangio tutto. Mi mangio tutto. Sì. Ti piace tutto, quindi. È rimasto l'ultimo. Allora. Mi spugnare di più? È strano, è tipo un filo Vi apri 126 centimetri Oh, è tipo quelle caramelle Deve essere... Capito, no? No, non ho capito Ma come apri il filo? No, che puzzo Ma cos'è sta roba? Ti è sciato e si è unito tutto Dammi un pezzo Tieni Questo sa di Coca Cola Questo sa di qualcosa che so Però non mi ricordo di nulla Aspetta che lo so Che so Che devo fare? Non lo so Sa Secondo me sa di detersivo per i piatti No, perché ho già sentito sto sapore in bocca Ok, allora Direi che abbiamo finito Quindi speriamo che il video vi sia piaciuto Non guardare me, guarda là È strano di fare la scena due volte Ma se si era spenta non è colpa mia Mi sono persa Cosa avevo detto? Che il video è finito Non ti è ascoltato E quindi grazie di averlo visto Speriamo che vi sia piaciuto Ciao 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 Grazie.